Giovedì 15 febbraio, buongiorno e ben ritrovati all'appuntamento con la nostra rassegna stampa. Prima di dare lettura dei quotidiani regionali e nazionali, apriamo la nostra rassegna con una notizia che riguarda la tragedia di Rigopiano perché la Corte d'Appello dell'Aquila ha condannato l'ex prefetto di Pescara Provolo, oltre a altre otto condanne e 22 assoluzioni. Sentiamo tutto nel servizio di Sabrina Giangrande. Siamo dinanzi il Palazzo di Giustizia del Tribunale dell'Aquila per la lettura della sentenza della Corte d'Appello della strage di Rigopiano del 18 gennaio 2017. Dopo 5 ore in Camera di Consiglio la Corte d'Appello dell'Aquila ha emesso la sentenza del processo per la tragedia di Rigopiano. Condanna un anno e otto mesi per l'ex prefetto di Pescara Francesco Provolo. Confermate le condanne del primo grado. Del prefetto di Pescara Francesco Provolo, con riferimento ai diritti di rifiuto di atti d'ufficio, ritenendolo unico responsabile in ordine a tale debito e conseguentemente assolvendo De Cesari Ita e Bianco Loredana, ai quali pure detta condotta era stata contestata. È di falsità ideologica in atto pubblico, unicamente avuto riguardo alla nota da Egli sottoscritta in data 17 gennaio 2017, capi di imputazione 14 e 15, assolvendolo con riferimento alla nota il 16 gennaio con la formula per non aver commesso il fatto, nonché condannandolo previa unificazione dei diritti sotto il vincolo della continuazione e applicazione della diminuente per il rito abbreviato alla pena finale di anni 1, mesi 8 di reclusione con concessione dei benefici di legge. Rispetto a questa sentenza possiamo osservare che intanto quello che temevamo è che ci fosse della riforma con riferimento alla situazione della strada e quindi alle condanne non c'è stata. punto uno, punto due, osserviamo che comunque sono state confermate 22 assoluzioni e quindi le mie dichiarazioni che avevo fatto un anno fa che sicuramente, probabilmente per questa vicenda l'indagine non era stata sperrita secondo quello che erano i canoni che io ritenevo da uomo di legge avrebbero dovuto essere tenuti, purtroppo è stata confermata. Un altro accontendino, piccolo, piccolissimo, però posso dire che come Pescara, qua in Abruzzo non esiste la legge uguale per tutti. Però mi aspettavo che fosse una pagina di giustizia più ricca, completa. Passiamo alle regionali d'Abruzzo perché Marsilio presenta la sua lista civica e dice farà la differenza del servizio di Valentina Ciarlante. Una lista non partitica che di sicuro farà la differenza, sposterà i voti decisivi. Questa è la previsione di Marco Marsilio nel presentare i 29 candidati del racgruppamento che porta il suo nome e che concorre alle regionali del 10 marzo. C'è stata la prima ufficiale qui in centro a Pescara. 29 candidati, ognuno con una storia diversa anche relativamente all'estrazione politica. Convinti che in Abruzzo sia necessario proseguire il percorso avviato 5 anni fa. Continuità e innovazione sembrano essere le parole chiave della lista civica del presidente uscente. Marco Marsilio. Raccoglie le persone che magari o non facendo politica abitualmente o avendola fatta altrove e con altro tipo di provenienza hanno riconosciuto nell'azione politica e amministrativa del sottoscritto e dell'intera amministrazione un fattore positivo di crescita. Dopo migliaia di chilometri percorsi è riuscito ad allestire le quattro liste, quelle di ogni circoscrizione, e ora Terenzio Rucci sente su di sé una grande responsabilità. Siamo concentrati passo dopo passo, giorno dopo giorno, per raccontare i progetti con chiarezza, comunicare con tranquillità agli elettori che c'è la possibilità di votare le persone indipendentemente da un retaggio ideologico, dato che la civica non è da quel presupposto che viene costruita, ma semplicemente da sensibilità amministrative e da espressioni territoriali. È la candidata più giovane, ha solo 20 anni, studentessa universitaria. Barbara Dimascio vuole lanciare un messaggio ai propri coetanei. Io credo che la politica sia a tutti coloro che vogliono mettersi in gioco e vogliono fornire il proprio contributo. Quindi con i miei 20 anni vorrei fornire una grinta nuova per dare una nuova immagine e rafforzare l'Abruzzo non soltanto anche in Italia, ma anche all'estero. L'Onorevole Aldo Patriciello, il Presidente della Giunta Francesco Roberti, Presidente del Consiglio regionale Quintino Pallante e il Consigliere regionale Massimo Romano saranno gli ospiti della puntata di domani sera di Conto alla Rovescia in onda alle ore 21, chiedo scusa, sulla nostra rete. Sentiamo tutte le anticipazioni. Consueto appuntamento domani sera a Conto alla Rovescia in onda su questa rete alle ore 21. Nella prima parte fare i puntati sulle prossime elezioni europee. Ospite di studio l'eurodeputato Aldo Patriciello, che si presenta per la quinta volta ai nastri di partenza di questa prestigiosa competizione elettorale. Ha salutato Forza Italia portandosi dietro un curriculum da dominus delle preferenze del Sud Italia. spiegherà il motivo per cui ha lasciato Forza Italia ed è approdato alla Lega di Salvini. Quali speranze può nutrire il mezzogiorno d'Italia nei confronti dell'Unione Europea? Quali sono state le sue azioni e quali saranno le sue proposte? Di questo e di altro si parlerà con l'Onorevole Aldo Patriciello. Nella seconda parte ospita il Presidente della Regione Molise, Francesco Roberti, con il quale saranno affrontati i temi più attuali, dalla sanità all'autonomia differenziata, dall'accordo di sviluppo con cui il Governo concederà 440 milioni al Molise ai prossimi appuntamenti elettorali. Nella terza parte ci sarà un faccia a faccia tra il Presidente del Consiglio regionale del Molise, Quintino Pallante, e il Consigliere regionale di Costruire Democrazia, Massimo Romano. Appuntamento dunque domani sera alle ore 21 con conto alla rovescia su questa rete. Per il calcio d'eccellenza, ieri si è giocata l'andata degli ottavi di finale della Coppa Italia. L'Alto Casertano è stato sconfitto in casa in una gara giocata a Venafro dal Teramo. Gli abruzzesi sono imposti con il risultato di 2-0 grazie alle reti realizzate nel primo tempo da Esposito e Dos Santos. La squadra di Mancino ha sbagliato un calcio di rigore sul punteggio di 0-1. I Teramani con questo successo vedono l'accesso ai quarti di finale, ma prima va giocata la gara di ritorno. Diamo ora un'occhiata alle prime pagine dei quotidiani, partendo come di consueto da quelli regionali e dal Molise in particolare, con primo piano che in apertura parla del piano operativo sanitario in Consiglio respinti tutti gli atti delle opposizioni. Ha provato un ordine del giorno che chiede il mantenimento di emodinamica a Isernia e di attivare a Campobasso il servizio per trattare l'ictus con prestazioni di secondo livello. Le critiche di Partito Democratico, Movimento 5 Stelle e Costruire Democrazia amareggiano Buonamico e Di Giacomo. In audizione hanno espresso un altro giudizio, dicono Buonamico e Di Giacomo. Passiamo poi alle notizie che riguardano ancora la sanità, perché accordi di confine Agenas, regioni e commissari, oggi al Ministero. E in pancia c'è una notizia di cronaca. Indiziato dell'omicidio di Todorov, Enio Amorfino resta in carcere. Il GIP ha convalidato l'arresto del 38enne di Santa Croce di Maiano. Secondo la pubblica accusa è l'assassino del bracciante bulgaro. Di spalla da Campobasso, centrosinistra in attesa. Di Lallo ieri sera ancora non accettava la candidatura al sindaco del capoluogo. Cristiano Tatarelli a Campobasso, a Isernia Davide della Cioppa sono i nuovi questori. Ancora per la cronaca, delitto mica trotta, i legali di De Vivo ricorrono in appello. Andiamo con le notizie che riguardano invece da Isernia le maschere zoomorfe. 300 figuranti da tutta Europa, attesi migliaia di spettatori. Nel taglio basso per lo sport, Campobasso per la trasferta di Senigallia, 500 biglietti ai tifosi, rosso-blu, torna il vicepresidente Cirrincione. Coppa Italia, l'abbiamo appena visto anche nelle immagini, Alto Casertano battuto in casa dal Teramo nell'andata degli ottavi delle fasi nazionali della competizione. Isernia, mister Farrocco, il campionato si deciderà all'ultima giornata. E poi il punto, a firma di Michele Gennarelli, scamorze e trecce senza latte. Sotto la testata, ancora due notizie. Cardiologie aperte, sabato 17, visite ed esami all'ospedale Cardarelli. Troppe cattive abitudini nello stile di vita. Scuola, iscrizioni, licei al primo posto, ma perdono il 4,2% rispetto allo scorso anno. Crescono invece i professionali. Bene il Made in Italy. Passiamo al centro, che naturalmente apre con la sentenza che riguarda la tragedia di Rigopiano. Condannato Provolo, i 29 morti del resort, un anno e otto mesi per falso all'ex prefetto di Pescara, scagionato in primo grado. Pene anche per un funzionario e un tecnico. La Corte d'Appello dell'Aquila conferma invece 22 assoluzioni. Le reazioni, la delusione dei familiari, è solamente un contentino, dicono. E Marsilio dice, ricorsi possibili, non c'è il rischio di prescrizione. Ancora incontro con Salvini. Autostrade, tempi brevi per la messa in sicurezza. Andiamo nel taglio alto con Tajani, che dice che Forza Italia è forte e si punta a confermare il 12%, naturalmente verso il vuoto delle regionali d'Abruzzo. D'Amico, contro la rovescia per la grande festa a Pescara, invece per il centro-sinistra. Ferrovia Pescara-Roma, finanziamenti sbloccati. Via Libera il 21 febbraio. E parliamo anche di Zeman, che è stato ricoverato in clinica. Salta la trasferta di Pesaro. Da sabato l'allenatore Boemo sarà ricoverato per controlli. Ancora da Pescara, villetta confiscata ai Rom. Caso sotto esame. Viale Marconi, dopo un anno, ora spunta il collaudo. E vediamo la prima pagina del messaggero a Bruzzo. Anche qui l'apertura è dedicata, naturalmente, a Rigopiano. Condannato l'ex prefetto. In corte d'appello inflitti un anno e otto mesi a provolo per la lettera falsa del 2017 sui soccorsi. L'avvocato della vigna. Passi avanti, ma giustizia ancora parziale. La delusione dei familiari. Anche qui le reazioni non puniti, i responsabili della tragedia. Si parla di Zeman. Nuovo ricovero anche sul messaggero. Domenica niente panchina. Il tecnico sottoposto a sabato ad accertamenti. Salterà la gara di Pesaro. Da Pescara, Viale Marconi, c'è la firma sul collaudo. E poi per la cronaca, morto dopo un pugno. Omicidio. Roseto, svolta nell'aggressione del benzinaio. E nasce l'osservatorio sul diritto alla mobilità. Per quanto riguarda autostrade, confermato il blocco delle tariffe per sette anni. A24 e A25, vertici al Ministero delle Infrastrutture, nuove risorse per sicurezza e manutenzione. Di Spalla, Orsi e Parco, 18 nuovi nati, ma 4 sono spariti. E poi le notizie sotto alla testata. Dall'Aquila, Giubileo 2025, a Roma mozione per un asse con l'Abruzzo. Da chiedi, risparmi spariti dai conti di anziani. Le infermiere dovranno risarcire. Pescara, filo via. Bonifica obbligatoria se il sito risulterà contaminato. Passiamo a dare uno sguardo alle prime pagine dei giornali nazionali. Partendo, come di consueto, dal Corriere della Sera. Vediamo l'apertura proposta dal Quotidiano. Nato e USA, doppio allarme e tensione tra Vaticano e Israele, che replica Parolin, frasi deplorevoli. Stoltenberg, aumentate le spese militari, i repubblicani, pericoli per la sicurezza. Vertice al Congresso. Diamo un'occhiata anche alla spalla del Corriere della Sera. Ilenia, la favola del cuore a metà, ha fatto nascere due gemelli. E poi due ellanti, Meloni e Schlein, sole sul ring, fuori i secondi. Il granduca di Campania, che si vede re, il racconto speciale. Anche qui si dà risalto alla tragedia di Rigopiano. Otto condannati, anche l'ex prefetto. 22 assoluzioni della Corte d'Appello. Ancora la cronaca, perseguito ai figli, durissimo scontro in casa Agnelli, tra i legali di Elkan e Margherita. E ancora il litigio, gli spari, le due vittime, a René, il colpo di grazia. Da Latina la confessione del finanziere, che ha ucciso sorella e madre della ex. E ora la Repubblica, che ha un'apertura invece politica, e parla della minaccia di Salvini. Scontro tra Lega e Fratelli d'Italia sullo stop al terzo mandato. Se Meloni non cede, premierato in bilico e Zaia si candida. Allarme di Cantone sulla cancellazione dell'abuso d'ufficio. Con il taglio cadono le condanne già emesse. Strage di Cutro, accusati gli ufficiali della finanza per mancato soccorso. In taglio centrale, scintille tra Israele e Vaticano. Parolin deplorevole su Gaza. Il cardinale aveva definito sproporzionata la reazione militare. E poi gli USA temono l'arma segreta del Cremlino. Blitz ucraino con i droni marini affonda nave russa. A seguire, c'è la prima pagina del messaggero. Che parla della stretta sul lavoro agile per gli statali. Mille proroghe. Non verrà prolungato il diritto allo smart working per i dipendenti fragili. Per tutto il 2024, scudo erariale agli amministratori pubblici. Medici in pensione a 72 anni. Da Israele, striscia di Gaza. Tensione tra Israele e Vaticano. Netanyahu blocca la trattativa di pace. Erdogan vede al Sisi. I timori per un'atomica contro i satelliti. Minaccia russa alla sicurezza USA. La Casa Bianca convoca il congresso. Anche qui risalto alla condanna che riguarda la tragedia di Rigopiano. In appello a altre tre condanne. Restano 20 assoluzioni. Delusi i familiari. E ora il tempo. Anche qui si parla dello scontro tra Vaticano e Israele. Secondo il cardinale Parolin, risposta sproporzionata di Tel Aviv nella striscia di Gaza. L'ambasciatore della Santa Sede, dichiarazione deplorevole, irresponsabile è Hamas. Assegnata scorta alla D-Rai per la solidarietà agli ebrei dopo il Sanremo, dice il tempo, filo Gaza. Poi c'è l'impresa della Lazio in Champions League. Immobile manda K.O. il Bayern realizzando il rigore decisivo. Oggi alle 18.45 la Romea sarà ospite del FENORD in Europa League. Caos trasporti, ferrovie regionali peggiori d'Italia. Rapporto lega ambiente, boccia, metro mare e la linea per Viterbo. Sentenza per l'amianto killer. Paga il comune, famiglia del dipendente morto per le polveri. Risarcita con 61.000 euro. Il fatto quotidiano, anche qui si parla del ministro Salvini, ma sotto un altro aspetto, ovvero il fatto quotidiano dice che Salvini vuole vietare i cortei contro Israele. Dopo le botte, proposta di leggi del capogruppo leghista Romeo. Norma anti-Gali, il cantante, più poteri al Viminale per proibire le piazze pro-Palestina, sono antisemite e alla RAI un daspo contro gli artisti impegnati. Taglio alto, no ai parenti dei boss in lista e ci occuperemo di Dell'Utri. Chiara Colosimo intervista alla Presidente di Fratelli d'Italia dell'antimafia. Dopo il fatto quotidiano, il manifesto, con una grande apertura dedicata alle vite degli altri, dice il manifesto. Soldi rubati, case saccheggiate, video su TikTok con il bottino. Gaza e Cisgiordania, soldati di Tel Aviv, te predano le case dei palestinesi. Israele non si ferma, escalation a confine con il Libano, scontro anche con il Vaticano. Ma quali vittime sproporzionate sono tutti complici di Hamas. Salvini e Meloni, lite sul terzo mandato. Pera boccia il suo centrodestra e deposita due emendamenti al DDL sul presidenzialismo. La verità, vediamo la prima pagina della verità, che propone un'apertura totalmente diversa. In sedia a rotelle per i vaccini, Speranza gli dà dell'assassino, il titolo forte della verità. L'ex ministro contestato da uno dei tanti danneggiati durante la presentazione del suo libro, prima lo infama e pagato da fuori dal coro, poi gli concede un'udienza privata, ma solo per irriderlo, ha firmato la liberatoria e accusarlo di ammazzare la gente con la sua protesta. Non si vaccinano più. Gli agnelli si sbranano tra loro, la guardia di finanza ha le prove delle accuse, verificata la presenza di beni e redditi schermati in Liechtenstein. Dopo la verità, il sole 24 ore, uno sguardo anche alle notizie economiche del quotidiano di Confindustria. Tutte le proroghe per tasse mutui scuola con la rottamazione caccia a 5,4 miliardi. Via al decreto, ok in commissione, oggi la prodo in aula alla Camera. Poi la fiducia il 19. Per quanto riguarda le agevolazioni, bonus prima casa per i giovani solo con preliminare registrato. L'istruzione, maturità 2024, ammissione senza alternanza scuola-lavoro. E poi le obbligita che dice, un'unione europea, politica agricola da cambiare, più tempo al green. Anche qui si parla della guerra, come ogni giorno in Israele, nuovo stop alle trattative in Egitto. Macron dice, basta morti, diritto alla difesa, non è massacro, duro scontro tra Santa Sede e Israele. Dopo le parole di Parolin. E ora le notizie sportive con la Gazzetta dello Sport, che apre naturalmente con l'impresa firmata da Lazio ieri sera contro il Bayern Monaco. Vince grazie a un rigore trasformato da Ciro Immobile. Una notte da sogno, rigore di Immobile per una meritata vittoria. I tedeschi finiscono in 10, il ritorno decisivo ci sarà il 5 marzo. Poi 700 di questi Giroud gioca la settecentesima gara con i club, l'attaccante francese. La Roma alle 18.45 questa sera in Olanda contro il Feyenoord. L'Inter, Inzaghi, firma stellata. Un premio per Simone con il ventesimo scudetto. Questo rinnoverà fino al 2026 per la Juventus. Allegri scuote la Juve. Guai a mollare. Adesso diamo ora uno sguardo al nostro palinsesto odierno. Vediamo il programma. Alle ore 11.00. Spettacolo Campo Ascianarie per la seconda parte. Alle 14.00 l'appuntamento con la prima edizione del nostro TG News. Alle 16.15.00. Personaggi e situazioni nella tradizione teatrale di Isernia. Poi alle 18.30 la seconda edizione del TG News. E ancora alle 21.00. Non perdete l'appuntamento con Zona Sport condotto da Francesco Presutti. E infine alle 23.00. Il terzo appuntamento con il nostro notiziario. Bene, è tutto anche per oggi. Io vi auguro una serena giornata. Arrivederci. Buon Netto. Buon Netto. Autore dei sovrapposti